e delle decisioni collegiali che ogni scuola nel pieno rispetto della propria autonomia assume ma che sono altresì compatibili con il quadro costituzionale a cui l'onorevole fa riferimento e ai valori condivisi. Quindi sia in questo caso sia in tutti gli altri casi il Ministero naturalmente non può e non deve entrare nella specifica scelta delle modalità delle iniziative didattiche assunte. Quello che fa e che naturalmente deve fare per la propria competenza è verificare se ci siano anomalie soprattutto nella non assunzione di decisioni che devono passare dal piano dell'offerta formativa, dalle valutazioni collegiali, in questo caso ciò è avvenuto e questo per quello che ci riguarda avviene sostanzialmente sempre. Quindi mi sembra che il tema sia seguito con la massima attenzione nel pieno rispetto da un lato della libertà di insegnamento, dell'autonomia scolastica che sono altrettanto valori altrettanto importanti e sanciti dalla Costituzione e naturalmente di un quadro di riferimento valoriale che è quello a cui facciamo tutti riferimento nel nostro Paese. Grazie Ministra. Adesso a facoltà di replicare il Deputato Grimoldi che ha due minuti. Prego. Guardi, signor Ministro, io sul caso specifico di Milano le credo, però crediamo che si debbano dare delle linee guida perché non si possa far fare politica, soprattutto se questa è ideologica, nelle scuole. Io le ricordo che ci sono tre scuole di Bologna che hanno abolito la festa del papà e già che c'erano anche la festa della mamma. Ci sono due scuole a Roma sulla quale c'è anche polemica con i genitori perché hanno tolto la festa del papà per non offendere qualcuno. Ci sono innumerevoli scuole che le cronache ci hanno raccontato aver tolto la festa del Natale per non offendere chi evidentemente non festeggia il Natale e arriva qui a casa nostra. Ci sono scuole che non chiamano più mamma e papà, mamma e papà, ma li chiamano genitore 1 e genitore 2. Ora, io penso che il ministro dovrebbe intervenire sul cercare di non far perdere elementi evidentemente di identità e a difesa della famiglia. Se secondo lei è normale a un bambino dire che questa non è la mamma ma il genitore numero 1, ecco, io penso che il ministero dovrebbe invece intervenire invece che fregarsene. Ci sono scuole che tolgono il salame, che tolgono i wuster perché si offende qualcun altro. Io penso che il non offendere qualcuno sia invece il farlo passare attraverso una cultura di riferimento che è quella del Paese ospitante, che è la difesa di determinati valori, che è la difesa inevitabilmente della famiglia. Voi state zitti quando il signor Vendola va negli Stati Uniti e si compra un bambino e a momenti riesce persino a dire che l'ha partorito lui, ma poi quando invece c'è da intervenire nelle scuole per la difesa della famiglia, di valori, tradizioni e del crocifisso, invece il ministero dorme sogni profondi con un cefalogramma piatto. Ecco, ci piacerebbe un governo che non va contro il mondo e che non lavora in senso contrario a quello che dovrebbe essere l'elementare buonsenso e la difesa dei nostri valori. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 32112 dei deputati Centemero e Occhiuto concernente misure per ristabilire priorità e merito in relazione alla mobilità territoriale dei docenti, con particolare riferimento ai docenti immessi in ruolo nella fase B del piano straordinario di assunzioni e da graduatorio di merito, anche al fine di salvaguardare i motivi familiari. La deputata Centemero ha facoltà di illustrare la sua interrogazione e da un minuto. Grazie, signor Presidente. L'interrogazione, come è stato sottolineato, riguarda il piano straordinario di mobilità previsto dalla legge 107 del 2013. La forte emissione e ruolo che è avvenuta quest'anno da adito a questo piano straordinario di mobilità è stato appena firmato, quello che è un contratto nazionale. Grazie.